Parti con una nuova campagna pubblicitaria per la tua attività. Grazie ai nostri banner e video possiamo permetterti di raggiungere in pochi giorni decine di migliaia di nuovi clienti. E per venire incontro ad ogni tua esigenza abbiamo deciso che il prezzo lo decidi tu. Chiama sin da ora questo numero o scrivi a spotchiocciolaocchiopavese.it Riparti con noi, riparti con Occhio Pavese. Buongiorno a tutti gli amici di Occhio Pavese. Oggi siamo in compagnia del dottor Michele Grandi, lo conosciamo responsabile politico del Movimento Civico Italia del Rispetto e secondo le ultime indiscrezioni anche probabile prossimo candidato di questo movimento, candidato sindaco ovviamente. Noi siamo in via Barbieri in questo momento perché il dottor Michele Grandi, in rappresentanza anche dei cittadini di questa zona, voleva segnalarci e parlarci di alcune problematiche proprio che coinvolgono le persone che abitano in questa parte di Voghiera. È così dottore? Sì, innanzitutto, buongiorno. Alcuni residenti qui della zona di via Barbieri ci hanno segnalato alcuni disagi, particolarmente legati alla velocità su questo tratto di strada, questo tratto rettilineo che collega due provinciali, una in direzione che va verso Riva Nazano e l'altra verso Tortona, per cui gli automobilisti usufruiscono di via Barbieri quasi come se fosse una tangenziale e in questo tratto vanno, diciamo, forti. Questo poi comporta tutti i pericoli. Ci sono stati anche degli incidenti, soprattutto lì avanti all'incrocio tra via Barbieri e via Confalonieri. Ecco, quindi questo è il problema principale per cui molti residenti della zona si sono rivolti a noi. Sì, perché ovviamente il rischio maggiore, ovviamente oltre a quello dell'attraversamento pedonale, che può risultare complesso o comunque pericoloso perché appunto gli automobili sfrecciano ad alta velocità e anche per le vie laterali di via Barbieri appunto, infatti quei cittadini che devono immettersi sulla via Barbieri da una via laterale, per esempio la via Confalonieri che abbiamo appena citato, ovviamente hanno un rischio perché poi c'è anche poca visibilità, è corretto? Certo, è così, è così perché appunto non sempre, diciamo, la situazione, l'intersezione delle strade permette una buona visibilità e quindi questo fatto, unito all'alta velocità, è a causa di incidenti anche spesso gravi. Ecco, a proposito di laterali di via Barbieri, ci troviamo proprio di fronte ad una di queste laterali, via Giovanni Verga, so che anche per quanto concerne questa via ci sono delle lamentere da parte dei cittadini relativamente, però in questo caso al manto stradale. Sì, infatti è forse l'unica via, diciamo, laterale di via Barbieri che non è ancora asfaltata e questo causa problemi quando piove, quando ci sono gli allagamenti e non c'è neanche un impianto funiario adeguato. Tra l'altro la strada è in pendenza, è leggermente in pendenza per cui ovviamente i cittadini che abitano nella parte finale della via ad ogni acquazzone ovviamente rischiano di avere il proprio cortile allagato, è corretto? Sì, è proprio così, ecco, infatti i cittadini qui di questa via in modo particolare si sono rivolti a noi, insomma, in modo pressante per segnalare questa cosa perché è veramente un grosso disagio. Ci siamo spostati in un'altra zona di questo quartiere, siamo in via Mollino, proprio nei pressi del Campo Giovani e alle spalle del dottor Grandi c'è questa struttura. Ecco, qual è la storia di questa struttura mai completata? Sì, questa è una struttura che risale a parecchi anni fa, ecco, si dice forse una trentina d'anni fa e probabilmente doveva essere una palazzina residenziale, poi probabilmente la ditta è fallita e quindi questa è la situazione in cui versa in questo momento, ecco. Tra l'altro sono due ali perché poi girato l'angolo ce n'è un'altra altrettanto abbandonata e qui intorno ci sono delle palazzine residenziali assolutamente abitate e i cittadini ovviamente lamentano il fatto che questa struttura può diventare potenzialmente anche un rifugio per sbandati o persone che cercano riparo, no? Sì, certamente. A parte l'aspetto estetico che contrasta un po' con la, diciamo, anche la struttura del quartiere, che è un quartiere in espansione, ecco, e poi può diventare ricettacolo di sporcizia e anche di magari malintenzionati che possono venire qui a fare delle cose poco belle, ecco, quindi questa purtroppo è la situazione e il pericolo, diciamo, che può verificarsi in questa situazione. Tra l'altro c'è ovviamente una staccionata che delimita il tutto, però è facilmente accessibile perché è stata distrutta, quindi non solo per malintenzionati, ma anche ragazzi e bambini che magari in questa zona possono passare con la bicicletta, eccetera, possono accedere alla struttura che è assolutamente pericolosa, no? Eh, certo, certo. Infatti, chiunque passi di qui, ecco, soprattutto magari bambini o ragazzi per curiosità può essere portato a scavalcare questa recinzione, ecco, e quindi poi farsi male e incorrere in pericoli seri. Anche perché ci sono all'interno della struttura delle scale che portano ai piani superiori, e dai piani superiori poi non c'è assolutamente nessun parapetto, comunque nulla che protegga le persone che si possono eventualmente affacciare o sporgere. Dunque, siamo con questo signore, ci dica solo il nome, lei è il signor? Antonio. Signor Antonio, lei abita qua in questa zona, è corretto? Esatto. Di fronte proprio a questa struttura. Ecco, che cosa ha da raccontarci su questa struttura? Addirittura ci ha detto che la vede da 40 anni, neanche 30. Infatti, sono decenni che purtroppo è stato di degrado e di abbandono, con rischi e pericoli evidenti, nelle quali purtroppo sono anche accaduti fatti spiacevoli, riscontri spiacevoli negli anni pregressi. Mi auguro che almeno venga messa in sicurezza perché almeno la stazionata che avrebbe dovuto riparare ingressi di bambini che anche vanno a giocare ripetutamente assiduamente in questa struttura, possono almeno avere un minimo di salvaguardia dal punto di vista della loro incolumità fisica. Questo è fondamentale e mi auguro che l'amministrazione comunale possa mettere in mano finalmente questo eco-mostro perché tale è e tale rimane, qualora non venisse messo ovviamente in condizioni tali da rendersi più vivibile la zona, anche perché mi pare che sia evidente più che mai l'abbandono e il degrado di questa struttura. Tra l'altro in una zona così bella, perché poi siamo decisamente in mezzo alla natura. Bellissimo, penso proprio che l'amministrazione comunale finalmente ponga mano a questo degrado per porre fine a una realtà che per noi residenti, ma non solo per noi residenti, anche per coloro che vivono questo ambiente, ragazzi che quotidianamente frequentano il campo giovani, le famiglie che frequentano questa visione, non abbiano più questa visione così disastrata. Ci troviamo adesso nel parco giochi di Via Grimaldi perché anche in questo caso i cittadini hanno voluto segnalare un disagio. Sì, ecco, come è possibile vedere qui abbiamo un'area verde, ecco, abbastanza vasta con una misera giostra, per cui insomma è un parco giochi che però è assolutamente inadeguato per far giocare i bambini, ecco, quindi hanno tanto spazio però c'è effettivamente un'unica giostra. Anche perché ci troviamo in un quartiere sicuramente molto popolato, no? È di incontinua espansione tra l'altro. Eh beh, sì, sicuramente ci sono tante famiglie, sicuramente ci sono tanti bambini e bisogna dire che anche un quartiere, ecco, periferico, quindi con tanto verde, però questo verde non è sfruttato perché insomma non... per le ragioni, ecco, che ho detto prima. Disagi anche nella piazzetta della pace dove i cittadini sono costretti a ritirare e gettare i sacchi dell'immondizia dai cestini presenti nel parchetto. I residenti tra l'altro fanno notare come non siano ancora presenti i segnali stradali che riportino il nome della piazza. Ecco, la fine di questo piccolo tour che abbiamo realizzato insieme a lei. Dottor Grande, in quanto responsabile politico dell'Italia del Rispetto, cosa si sente di chiedere all'amministrazione comunale? Beh, sicuramente l'amministrazione comunale deve essere più attenta alle esigenze dei cittadini, sia quelli in centro, sia anche chi abita in periferia, quindi vanno bene le serate in centro, però bisogna anche venire incontro alle esigenze delle persone che abitano in periferia. In questo modo si può non soltanto contrastare il degrado e fare in modo che ci siano più osservizi, ma soprattutto anche rendere le vie della periferia più sicure e evitare anche molti incidenti che purtroppo si verificano per l'alta velocità e per le problematiche di cui abbiamo parlato oggi. Grazie mille.